Benvenuti a tutti ragazzi, siamo andati qui su un nuovo video e oggi ragazzi si parte con una nuova serie che è uno contro uno, con i premi, che chi vince si piglia 2000 crediti, cioè abbiamo stabilito con 2000 crediti e questo ragazzo che è il mio iscritto, che si chiama Lori Deluxe e ragazzi io mi muterò e vi farò sentire lui e niente ragazzi, guardatevi il video, si parte, bella Matti sei scasso, sei tanto di asfalto, ti rompo il culo Che coglione di merda Ti ammazzo la squadra, te la rompo in due cazzo Dai, mo' mi riprendo 2000 crediti Dai, questa squadra, muovi, lo scarso Dai, ti rompo, io non ho accerto troppo Ci siamo, possiamo cominciare Vediamo come scendono in campo i padroni di casa Il loro piano tattico, abbastanza chiaro, semplice Quattro difensori, tre centrocampisti e... Eriksen! Ha provato a giro, palla che è finita abbondantemente sul fondo Eh sì, la conclusione non ha preso l'effetto voluto Ne è uscito fuori un tiro completamente sballato Eriksen Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale Chi cazzo la va a prenderla? Apre di testa Coutinho Grande chiusura difensiva Dembele Partita della partita fra questi due giocatori Tra i protagonisti annunciati del match di oggi Sei d'accordo Stefano? E direi proprio di sì, Piano Vigi Hanno qualità con cui possono fare la differenza per le rispettive squadre Polizione da protezione è decisamente favorevole questa Esce e recupera il pallone Si avvicina all'area La cassette Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi Si ripartirà con il corner Rudiger Apre bene di testa Lo ferma sul più bello Lallana Provano con il pressing Recuperano un pallone potenzialmente pericoloso E il portiere recupera il pallone Hanno spezzato bene la trama qui Occhio al suo movimento Può portarsi in vantaggio 1-0 dunque Raccolgono i frutti Di un'ottima prestazione fin qui Stavano facendo un po' quello che volevano Troppo passivo L'atteggiamento della squadra avversaria Vantaggio direi più che meritato Non poteva non segnare da quella distanza Bastava solo appoggiarla in rete Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 Baragna C'è il fischio dell'arbitro Si riparte con un calcio di punizione Attento qui il difensore Che allontana Ci sono metri per andare Sale la casa Occhio al contropiede Può essere pericoloso Occhio Eric Occhio al tiro Miracolo del portiere Che sventa il tiro qui Ma che riflessi Pierre Davvero una parata eccezionale Bastardo Gabriel Jesus Baragna Metri Ha intercettato palla con un ottimo tempismo Consentendo alla difesa di respirare Intervento tempestivo del difensore Che intercetta il passaggio Dio Cristo Dio No L'acqua è giusto No Attenzione Si Calcio di rigore Non ci sono dubbi È calcio di rigore Arriva anche il cartellino giallo Credo che l'arbitro abbia preso La decisione giusta Pierluigi Non sbaglia Rigore calciato con sicurezza Balla che finisce in red Bella decisa Ferma questa conclusione Non ha lasciato scampo al portiere Ha incrementato il vantaggio Portandosi sul 2 a 0 Occhio cerca l'area di rigore Con la Sinaz Recupera palla Intercettando bene il pallone Cazzo fuori Cazzo fuori De Belli Gabriel Jesus Eriksen Fermano la manovra avversaria Eriksen Tira il respinto La toccare del ultimo è il difensore E dunque calcio all'angolo Occhio al corner Belli Grande riflesso del portiere Che dice di no Puntuale qui il difensore Nel recupero Grande recupero difensivo Situazione complicata Vai cazzo Salastro insieme A metri per correre Ha spazio per andare Supera l'avversario Taglia al centro Prova ad andare Rispinge il difensore Vekovic Protagonista con questo intervento Vai che cazzo fa Il cazzo Va via di fisico Gabriel Jesus Interrompe bene l'azione Intercettando il lancio Comodamente Recupera il pallone Siamo in uno dei tempi Del calcio mondiale Siamo ad Old Trafford Nella tara dello United Stadio con una storia E una tradizione Pazzesca Bobby Charlton John Best Eric Cantona David Beckham Cristiano Ronaldo Randy Wayne Rooney E si potrebbe continuare All'infinito E all'incari campioni Che hanno calcato Questo magnifico Ed importante terreno Di gioco Con la maglia dei Red Devils Il troppo per Casorla Sul palo lontano Palla alta di poco Sulla traversa Lei è riuscito a schiacciare La sufficienza Per inquadrare la porta Peccato Era una buona occasione Cerca la sovrapposizione Palla interessante per Morata Drutto cross Nel suo problema per la difesa Intervento efficace Nel difensore Che intercetta il lancio E recupera palla Dembele La casetta Gabriel Chasuch In un fazzoletto E a trafiggere il portiere Palla che se fosse passata Avrebbe creato problemi Davvero seri alla difesa Molto bene qui il difensore Occhio al suo movimento Palla verticale per Ericsson Occhio ad Ericsson Il portiere recupera Bene in fine Chance importante Dalla bandierina A caccia del gol Del doppio vantaggio Kundo Kahn Se riparte col calcio Palla messa in mezzo Difesa Un po' in difficoltà Qui non riesce a spazzare Turri Pericolo Palla in gioco Interrompe l'azione pericolosa Arriva il finale Di questa Lasciati in mutato Lasciati in mutato Che faccio rip Rip lori Lasciati in mutato Ecco Resta così All'ultrafford Inizia la seconda frazione Di gioco Puntuale qui Il difensore Nel recupero Si avvicina all'area Occasione per la cassette Pericolo Ottimo intervento Del portiere Conducono già Ma provano a chiuderla Definitivamente Portando a due Il margine di vantaggio Con questa Belli Portiere che evita il gol Con un grande intervento Davvero una parola D'applausi Non era facile da lì Attenzione Pericolo Non è finita Sicuro L'intervento del portiere Occhio Cerca l'area di rigore Occasione importante Per pareggiare Vigovic Protagonista Con questo intervento Palla sul fondo Sarà un calcio d'angolo Batti Lasciati mutato Lasciati mutato Calcio d'angolo battuto L'istinto del portiere Attenzione a volata E c'è la presa Arriva la segnalazione Che ferma il giocatore Tutto solo verso la porta L'inizio è spettacolare Può essere Vincente Ma è giusto Fermare il gioco La casetta Intervento tempestivo Del difensore Che intaccetta il passaggio Punta l'area Gran palla per Coutinho C'è spazio per Coutinho La casetta Interrompe bene l'azione Intercettando il lancio C'è spazio per andare Buona l'idea qui Ma la buona per la casetta Si porta la più due Con questo gol Un margine abbastanza rassicurante Ma che ovviamente Lascia ancora qualche spiraglio Per la rimonta Hanno un discreto vantaggio Da gestire Questo gli permette Di non affrettare i tempi E lasciare Che siano gli altri A fare la prima mossa Davvero una giornataccia Per il portiere Non è il primo gol Che subisce E certamente Non ha saputo dare sicurezza Quarto gol della gara Che fissa sul 3 a 1 Il punteggio Ma la raccolta Senza problemi Dal portiere Oh ma Lasciami un po' Che non me lo selezza Oh ma Ottima la chiusura Fermazio Ma rispettosi stai C'è muta Che poi sguta Che è bello È bello È bello Sta venendo bene Sto video Sto venendo Ci sono metri A disposizione Chi te rispondi A me è detto Mamma Così Bello Mi piace Mi piace Occhio a traversone Palla appena Sopra la traversa E non è riuscito A tenere la bassa Qui a schiacciarla Per inquadrare Dai Dai Ci mette il fisico Si avvicina All'area È il pallone giusto Per riaprire la sfida Cerca il traversone Attenzione Perché c'è una nuova possibilità Grande recupero Hanno metri a disposizione Ottimi suoi passaggi oggi Buona l'idea di Eriksen Non è finita Prova a calciare Errore clamoroso E l'attaccante Il portiere ringrazia E blocca senza problemi Non riesce a darsi pace Sa di aver sprecato Un'occasione d'oro Per segnare La casetta Ripartono in campo aperto Non è finita Palla ancora pericolosa Ha recuperato il pallone Senza difficoltà Gabriels Giacosuc Coutinho Recupera la palla Intercettando bene il pallone Occhio cerca l'area di rigore Gran palla in mezzo Sala C'è un buon anticipo Bene qui il difensore Ha chiuso la linea di passaggio Ha riconquistato palla Cross in mezzo Efficace è quel portiere Che concede qualcosa Anche ai fotografi Sarà a corner A disposizione L'uscita del portiere Di pugno Ottima la lettura Del difensore Che ha capito tutto Ha recuperato il tocco Verticale interessante Alla buona per la casetta Bene gol Rete Una giornata Che non dimenticherà E' arrivata la tripletta Ennesimo gol Subito oggi Il portiere Non è riuscito a dare Minimamente sicurezza Alla difesa Partita che Assume ormai Una fisiologia Molto precisa Arbitro che fischia Il panno Debele C'è spazio per andare Occhio ad Eriksen Tutta la sua rabbia Per l'occasione mancata Anch'io sarei molto arrabbiato Abbastanza comprensibile Fermo l'azione Recupera il pallone Mettendosi sulla traiettoria giusta Gabriel Jesus Palla vagante adesso Gabriel Jesus La respinta di pugno Hanno spazio per andare in contropiede Bravo qui il difensore Che legge bene questo pallone Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara Buona l'idea di Eriksen Alla buona per la casetta Respinge il primo tiro Pallone interessante Ci sono metri a disposizione Palla in mezzo Dopo un buon intervento Palla lunga sul secondo palo Da rivedere Tentativo dell'attaccante Su questo colpo di testa Beh ha impattato male il pallone Non c'è che dire Non l'ha colpita Con la fronte Spedendola Ben lontano Dallo specchio della porta E' un finale questo che difficilmente riserverà sorprese Visto Lo squilibrio Delle due squadre in campo Palla interessante per Eriksen Intervento provvidenziale del portiere Sono 3 i minuti di recupero Gundogan Punta l'area Puntuale qui il difensore nel recupero Ci prova col tacco Sale la casetta Arbitro che dice che può bastare Finisce qui Ok ragazzi questo video Spokongruda anche qui Vi mettono una clip Dei soldi che mi arriveranno E niente ragazzi Lasciate un bel mi piace Commentate Fatemi sapere se vi può piacere Questa serie Uno contro uno contro bimbi Minchia E senza offesa Lory per questo titolo Del video Niente ragazzi Qui da TioGamer è tutto Lasciate un bel Lasciate un commento mi piace Come ho già detto in precedenza Da TioGamer è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Bella Allora ragazzi Questa qui è una clip Dopo il video Che ho fatto Un secondo fa Per voi E Questo qua è stato un pochino disonesto Mi ho scritto Perché abbiamo fatto una scommessa Una scommessa Una scommessa E non mi ha dato i 2000 crediti Niente ragazzi Dopo ho fatto un'altra partita Ho rivinto 4 a 1 E ancora Perché hanno fatto Oltre Ho fatto il possesso palla Come prima Ragazzi Come ho già detto in precedenza Cioè Un secondo prima Iscrivete al canale Fatemi sapere sotto Nei commenti Con un bel mi piace Con un commento Se vi può piacere Questa serie Di video Che Devo dire che su youtube Questa serie di video qui Forse sarò Il primo in tutta Italia A farla Guardiamo Come va E se Gli altri youtubers Me la copiano E niente ragazzi Da sugrimmi è tutto Noi ci vediamo al prossimo video A ribella A ribella Ma guarda Me l'ho tirato fuori